secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ma ho capito no porca troia alexi aspetta ragazzi che mi ha appena lanciato aspetta fermi che stiamo arrivando sono velocissimo a cambiarmi aspetta aspetta no no veloce veloce il cappello come stai che dici eccolo qua ragazzi no non mi picchiano si vede pure sulla serie guarda tutto bene bro si dai tutto a posto bello sto occhiale sento che mi sto ammalando però vado no porca troia nooo sembra una mosca figa va porca puttana l'occhiale dell'osco spazio 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 Ragazzi, sono le gag per fare le clip, porco il due, lo sappiamo tutti che sto esagerando, scusami, però ho sentito. Posso dire che con questa affermazione sua, credo che mi hanno mandato a puttare? Cosa? La mia affermazione? La sua. Perché? Dove ti spiego? Ehm... Vabbè, come... Sono troppo mazzo, quindi ho detto vabbè, ciao, cioè. Mi sono continuato a fare i gas. Se no, se fosse stato sobrio... Ma chiacchia. Dipende dal momento. Ma quanti anni hai? Una chiacchiera. Una chiacchiera sarebbe? Se sono all'alempista. Da, proprio, lo sticca l'almo. Scherzo, stiamo scherzando, ma te quanti anni hai? 21. Sono il 2002. Dove abiti? Tutto da Moli. No, 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 io non ci sono scopato. Allora, tutte le mie tue ministriano, ciao, ti andrei a prendere un bel panino. Ehm, poi siamo... Sì! E lei? Sì! E lei? Tessa! Ma che taz! Ma che taz! Ma che taz! Ma che taz! No, no, no! Che stile! Bomba! Ciao, c'è un bel dito! No, no. Oh, bella. Bella. Ciao, ciao Tessa. Ciao! Ciao! Tanti tocchiati. Ciao! 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 Ma hai registrato o sei te? No, no, sei... Fai così con la mano se sei te. Fai così? Come? Così Nooo Ragazzi non ci credo Allora calcola che noi siamo Maschete Ma che cazzo parla? 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 Tu sei un coglione Porca troia Grazie mille Ma cosa registri? Vediamo la strofa che scrive Comunque aspetta che faccio entrare due notti freestyler Lecca la marmitta Allora ragazzi non mi entra in gola per quello Porca madonna Tutte le troie porco dio Questo è il record penso eh Questo è il record Ecco dove fosse il record Che vedi? Oddio 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 ti stiamo aspettando bella sara sono steven masalari siamo in live dal rosso e tu non ci sei per favore entra se devo un po in posizione facciamo un attimino o sarà di risvegliare porca troia perfetto perfetto che arriverà con calma e bella sara ma ci sta tutte le persone così per capire perfetto però provate a riuscire facciamo così facciamo una roba del genere comunque nico trovato ho trovato il nome giusto per te nichi salvietta per me sei il nome è il mio nome definitivo 6 perché abbiamo finestra che finesse adesso abbiamo il secondo che si aggiunge al repertorio che nichi salvietta ok adesso secondo quindi sono solo in due per ora per ora si però solo in due per per questo però però poi poi ci aggiorniamo facciamo una cosa nichi se vuoi accettare il mio fit di giro tutte le canzoni e e poi ti do e se lui farebbe notarmi il suo interesse non man ένα va bene man man ma pittiamo le mani tutte assieme no scherzo è sentito sarà nostalgamata ragazza sarà un lei chema dammi dort ragazza c'è una la sua ragazza serve altre musica ragazzi che ci casi 19% Simone Bernardo mille bit Rosso fai un saluto erotico a Paolo Doimo Paolo Rosso fai un saluto erotico a Paolo Doimo cuore rosso cuore rosso un salutone Michele Ziello per i tre mesi per i tre mesi di Barlo Barù Simone Bernardo non so come ringraziarti dai basta è sgravato ma pure quando ho parlato guarda vuoi dire qualcosa dai bro basta però la continua a sgravarla continua a sgravare Angelica io ho un'ultima richiesta dimmi per favore orca puttana è un po' troppo chi gli ha ribalta la forza di gravità il miglior flow fra capita non parlare di Cadillac ce l'hai presente il banale tu Cadillac ok sopra il scuono chi gli ha accade dal cielo come un buono non venire contro me va incontro loro e ti appuntendo al muro come i dischi di Barlo Barù aaaaaaah vedi che non sono nudo esco sempre al bar la tua tipa che mi chiama sono in Cadillac esco con due tipe con la mano nella figa la tua tipa che le vuole manco sente questa rima esco con il cazzo di fuori la tua tipa è di fuori che mi chiama ma invece non ha un mazzo di fiori vieni qua da me che non mi senti da un po' senti questa rima senti questo flow bravo stanno non stiamo facendo la solita inquadratura oggi non stai facendo la solita inquadratura ma sempre questa no di solito aaaah che mi è piaciuta mi è piaciuta mi è piaciuta per quello perché no ti presento DJ Fede guarda che lui veramente un allupato di merda grazie mille siamo in rekappa per l'abbonamento DJ tutto ok mi sento la mattina il DJ Fede non capisce ma porca puttana ma sto parlando neve il contrario porca puttana posso parlare o no alessica mi ti senti indossare dei pantaloni cuciti dai bambini stavo dicendo perché ora ho iniziato a prendere ho iniziato a esserci tutta sta nebbia nel van e scendiamo e sta prendo fuoco letteralmente al motore non stavo fumando erba però non fumo grazie a tutti